Sono una cinquantina i fermi emessi dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nell'ambito dell'indagine della polizia, nei confronti di due distinte associazioni che avrebbero truccato decine di incontri di Lega Pro e Serie D. Gli agenti stanno operando in oltre 20 province in Calabria, Campania, Puglia, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Toscana, Liguria, Veneto e Lombardia. Sono oltre 70 gli indagati nell'indagine. Nell'elenco compaiono anche i nomi del 21enne Giacomo Ridolfi, uno dei talenti della Vispesaro ora in forza al Sant'Arcangelo e quello dell'ex capitano della Vis, Armando Ortoli, oggi al Catanzaro. Tra i fermati è anche il giocatore della maceratese Garraffoni, difensore fino alla passata stagione del Sant'Arcangelo. In totale a finire nei guai sono stati 15 calciatori, 6 presidenti, 8 dirigenti, ma anche allenatori, direttori generali e 10 finanziatori. Per tutti l'accusa è di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva e truffa. Uno degli arrestati dell'operazione denominata Dirty Soccer invece è stato colto da malore. Si tratta di Enzo Nucifora, avvocato ed ex dirigente sportivo di varie società calcistiche. L'uomo è stato prelevato nella sua abitazione a San Benedetto del Tronto dagli agenti della squadra mobile di Ascoli Piceno, che gli hanno notificato un ordine di ucusso di accautelare in carcere e condotto poi in questura dove si è sentito male. Prima di finire dietro le sbarre nel carcere di Marino del Tronto è stato sottoposto ad accertamenti all'ospedale Mazzoni di Ascoli. Anche Nucifora, sempre in base alle condizioni di salute, verrà interrogato nei prossimi giorni.